Ah sì, è così, certo. Può capitare a chiunque, no? Tutto questo scaturisce da quello che Shakespeare chiama l'amore. Amore appassionato, folle, che travalica tutte le barriere. Ed è per questo che noi lo riconosciamo ancora oggi. C'è qualcuno tra noi che non ha conosciuto tale passione. Lo so che qualcuno magari verrà a dirvi che l'amore è fuori moda, superato, che è solo un contratto sociale, se volete. Voi ragazze che ne dite? Lori? Quando mio padre lasciò mia madre per la sua amichetta, disse che era amore, ma era evidente a tutti quanti che era solo sesso. Io dico che l'amore è sesso. Io credo che sia una proiezione, come un miraggio nel deserto. Ognuno ci vede quello che vuole nell'altro. No, 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 è una tempesta chimica nel corpo che ti fa volere dei bambini. È biologia. È un contratto. Bugiarda. Bugiarda, bugiarda, bugiarda. Nessuna di voi ha capito un cazzo, perché l'amore è... esiste e niente di quello che dite può farlo sparire, perché è il motivo per cui noi siamo qui. È la vetta più alta e una volta che l'hai scalata, e guardi gli altri da lassù, ci rimani per sempre. Perché se ti muovi allora cadi. Cadi. Sì, Poli. Io credo che tu abbia...